La città sotto osservazione, un sondaggio promosso dall'assessorato alle attività economiche per quanto riguarda il commercio, non solo di Fano ma anche di tutto il comprensorio. Assessore Lucarelli, di che cosa si tratta in particolare? Innanzitutto un progetto per noi molto importante, pensato e messo in campo insieme al tavolo economico e insieme a tutte le associazioni di categoria. I comportamenti delle persone, dei cittadini ma anche lo stato economico delle imprese sono cambiati negli ultimi due anni ovviamente a causa dei fatti che tutti conosciamo, quindi dell'emergenza sanitaria ma anche della situazione internazionale che rende precaria le situazioni economiche. Ecco quindi abbiamo deciso che per guardare al futuro, per capire cosa possiamo fare come amministrazione, come governo della città abbiamo assolutamente bisogno di chiedere ai cittadini di fare un sondaggio e quindi di arrivare a capire qual è lo stato di salute della città. Lo facciamo con un'azienda importante che si chiama Demoscopica che fa sondaggi nazionali e internazionali di grande livello e è un sondaggio diviso in due parti. Il primo dedicato ai cittadini, abbiamo bisogno di capire come cambiano le abitudini dei cittadini e anche le abitudini di acquisto, anche i luoghi d'acquisto. Il sondaggio porterà via 6-7 minuti quindi chiedo ai cittadini che verranno in un qualche modo convocati di rispondere a queste domande alle quali verrà chiesto appunto le condizioni economiche, il trend di consumi, ad esempio dove acquistano e perché acquistano in quei luoghi, quindi se in centro storico oppure in grandi centri commerciali, se acquistano oppure non acquistano online, perché questo fa la differenza anche per il nostro commercio del centro storico, gli vogliamo chiedere il rapporto dei cittadini con il centro storico oppure con i negozi di vicinato. Insomma abbiamo bisogno di capire le abitudini vere e fare un identikit del cittadino. Una volta raccolti questi risultati lo stesso sondaggio lo faremo alle imprese, quindi chiedendo loro lo stato di salute, capendo se le necessità e le richieste dei cittadini fanno un match vero con i servizi che in questo momento danno le attività economiche e comunque se noi come governo della città possiamo aiutare il centro storico e i negozi di vicinato ad aumentare questi servizi e quindi far sì che aumenti il consumo commerciale all'interno del nostro centro storico e della nostra città. Insomma un sondaggio vero, abbiamo bisogno di creare le basi per attuare delle misure che aiutano il commercio che in questo momento ovviamente sta soffrendo non solo a Fano a livello nazionale, ma Fano ha deciso di fare qualcosa e di fare un passo avanti per cercare di aiutare queste attività.